Non dorme da 40 ore Attenzione E il nostro Eleven Monkeys Falcon Cosa? Ancora non hai messo like e soprattutto non usi il codice creatore e rosa amico sul negozio? Bene, spero ti sia chiaro Come è stato vinto e spero come sempre la grandissima ragazzi Oggi è arrivato il giorno in cui vi faccio conoscere non solo alcuni membri del team Ma soprattutto un nuovo acquisto Sono veramente contento di averlo nel team che sia entrato in questo progetto Perché lui è il re ragazzi, è il re della creative e nessuno lo batte Ma prima di partire ragazzi vi chiedo 10.000 like e vi porto un altro membro qua sul canale E per tutti quelli che mi fanno domande su come entrare quando fare i problemi Quindi vi consiglio di seguire la pagina Instagram perché tutti quanti avrete la possibilità Link qua sotto in descrizione ovviamente iscrivetevi al canale e io direi adesso di partire di vedere Chi è questo nuovo membro e nei commenti ditemi secondo voi chi sono gli altri Quindi commentate Ora mettetevi super super comodi Godetevi questo video Prendete la vostra Coca-Cola Popcorn Ed ora si come sempre let's go Ok ragazzi Allora ci siamo Facciamo il primo che arriva a 3 vittorie Sarà il vincitore Io ho molta fiducia del primo membro Ma anche Matteo Si siete pronti? 3, 2, 1 Let's go Vediamo un po' Io sto guardando proprio il mio Falcon Mamma mia ragazzi la sua velocità Vi devo dire una cosa intanto che lui gioca Che non dorme da 40 ore È un matto È un matto Io devo registrare questo video da ieri Poi non poteva perché blablabla Ed è rimasto sveglio fino adesso Quindi se vince anche così È allucinante Mamma mia Intanto gli ha già dato una mitragliata L'ha sentita secondo me Eccolo qui Missa il pump Missa di nuovo Gli arrivano a mitragliata anche lui Però gli fa 130 One shoot Oh Gesù Che rischio Un pelo Ce l'aveva in pugno Ma si è preso un rischio È allucinante 1-0 per il nostro Falcon Ok ragazzi Riposizionatevi E sono già partiti Vediamo Vi ricordo Il primo che Mamma guarda come sa Ma guarda È troppo forte In creativo Fa cose Allucinanti Vi avrò sicuramente messo qualche clip Il nostro Falcon Che lo blocca L'ho messa Poteva essere un easy Oh attenzione Gli ha preso l'altezza Lo tira giù così Oh 180 Oh my god Attenzione Comunque vi ho detto ragazzi Che Matteo non è da meno La nostra parte ci lena A giocatori molto validi Le volete farvi vedere Nei suoi provini È il momento Vediamo intanto Mi sa che Matteo C'ha l'altezza Sta risalendo Però mamma mia Ma guarda come Ma guarda che Che clean Attenzione Oh Dead Dead 2 2 0 Come questi I miei occhi Saranno da destra a sinistra Non capisco dove sto guardando Ve lo giuro È allucinante 3 2 1 Let's go Vediamo ragazzi Cribo C'è 2 L'altezza ovviamente Va bene Matteo cerca di Fare i retakes Ma Lo blocca Cerchi di contrastarlo Ma falken Eccolo lì Li fa 18 Si 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 Falken lo Lo blocca sempre Uh Attenzione Matteo ha preso l'altezza Vediamo come riprende adesso Il nostro falken Attenzione Sta salendo Guardalo lì Vedete qua Uh Scivola un pochino Ripartite Partono Con la stessa vita Quindi nessun danno Per nessuno Vediamolo qua Si prende l'altezza Occhio a Matteo Occhio a Matteo Uff No Il pump Lo scioglie un pochino Con una mitraglietta Gli ha fatto 19 19 Non gli da uscite Non gli da uscite Attenzione Gli fa 30 Col pump Oh Un altro 30 Matteo però Riuscito a prendere l'altezza No È rimasto bloccato Si fa gli cildini 50 L'ha fatto 50 Deve stare attento All'altra parte Oh my god Adesso è bianco Ricordiamo che adesso Hanno gli cildini Però si possono curare Prova un prefire Ma Matteo Non edita Uh Uh Attenzione 31 Attenzione È tempo adesso Per falcon Di cildarsi Un pochino Ci riprova di nuovo Eccolo qui E gliel'ha ripreso E gliel'ha ripreso Ragazzi Si è allucinato Oh Matteo però Tira fuori Un nita Allucinante Che jump shot Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Dai ci sta 2 a 1 Sempre per il nostro Semidio Della crescita C'è falcon C'è falcon È allucinante Vediamo Adesso sto guardando Matteo ragazzi Vediamo se chiuderà Il nostro falcon In questa partita Ed è andato gli cildini Insomma Per renderla Ancora più interessante Se n'era Secondo me Troppo facile Per il nostro king Attenzione Però è cattivissimo E gli ha già fatto danno Non so da dove Ma gli ha fatto danno Attenzione Matteo Si ritrova davanti Anche lui gli ha dato Una pompata però Occhio Occhio Per danno Ok 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 Anche lui lo scudo Tutti e due Si sono fatti male Si stanno shieldando Si stanno shieldando Sembrava che Avesse Il fight in mano Falcon Ma Matteo ha tirato fuori Un colpo da maestro Gli ha fatto danno Vediamo qui Matteo Sta risalendo Oh Madallo Gli ha fatto pochissimo danno però Era una giocata bellissima Se l'hai trovata in faccia Attenzione Sopra di lui adesso Non lo fa curare Non lo fa curare Mette la scala Uuuuh È riuscito Credo a farsi lo shieldino Sta risalendo Matteo Falcon però rimane su Sbaglio un attimino Questo retake L'arrivo ne è tagliata 19 Poco danno Occhio a questi Oh ho visto Ho visto lì Il colpo di panto Di Matteo Quasi partire Occhio a questi jump shot Perché Matteo ce li ha Attenzione Sta risalendo Matteo Nella high ground Falcon Ha la stessa vita Di Matteo Si sono lì Sono lì Sono lì Vediamo come riprende L'high ground Con il nostro Falcon Come si gira Guarda lì Falcon Come salta Come fa Lo blocca È sopra di lui adesso Eccolo lì Sta tentando uno di sui retake Matteo però adesso Li sta molto addosso L'ha perso Credo In questo momento Ok Falcon Che è già su In un secondo Lo perdi Ed è già su Attenzione Matteo È letteralmente una scimmia È un monkey Vediamo Non so come può finire Occhio all'altezza Ricordiamo che questo potrebbe essere L'ultimo round Non credo che sono ancora al limite Cade un pochino Cade un pochino Però è ancora vivo È ancora vivo Sta risalendo Matteo Adesso non lo lascerà a scampo Secondo me Non lo lascerà a scampo Non riuscirà più a risalire Vediamo Matteo Eccolo lì L'ha bloccato credo È sopra di lui Oh Si prende una pompata 22 di vita 3 di vita E Il nostro Eleven monkeys Falcon Si porta a casa La vittoria Vai Allora ragazzi Ovviamente C'è per fare la prova Del 9 Devo sfidarlo Anch'io Giusto voglio assaggiare La potenza di Falcon Allora Pump Io guardo tutto da qua giù Va bene Pump AR Che altro Pump R Mi tagliata Blu E Solo Lo scudino È tempo Di assaggiare La potenza Di Falcon Vediamo un pochino Adesso non riesco neanche a commentare Dovrei commentare Il cileno Eccomi Allora vediamo I nostri player Che combattono Mentre io mangio Il popcorn Qua sotto Oh Sono i primiti Che partono qua Ci provano Stanno combattendo Un 1 di 1 Mamma mia Supremo No Qui vince il primo Che uccide l'altro Un solo round Si vuole L'osso Fare Lo scudo Uff Au Azione Mamma mia No E niente Il nostro Creative Warrior È sempre più Maddo Se ti dava L'altra Ragazzi Volevo assaggiare anch'io La potenza Di Falcon Ed è veramente Devastante Più avanti Magari faremo La rivincita Mi allenerò Per batterlo Anche nelle build fight Ragazzi Io direi che per oggi È finita Lasciate un bel like Per il nostro Falcon Che è entrato nel team E ovviamente Per il nostro Matteo Il team cileno Mi raccomando Tutti i giorni I provini Per tutti Aperti a tutti Nel canale Tizio20 Poi io farò quelli Selezionati Nada Falcon Ultime parole Eh bro Che voglio sfidare subito A tre nuove persone A tre nuove persone Tranquillo Che stanno per arrivare Nuovi membri Quindi ragazzi Aspettatevi anche voi E ti saranno Filo da torcere Detto questo Io ora si Vi saluto Ci vediamo domani Con un altro video Fate così Bravi Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti